Secondo l'ultimo rapporto della Commissione per le adozioni internazionali nel 2021 in Italia sono stati adottati 680 bambini stranieri, mentre nel 2020 erano stati 669, il dato più basso in assoluto. Numeri dimezzati rispetto al 2019 che confermano una tendenza ormai in corso d'anni e che la pandemia ha accentuato. Lombardia 78, Puglia 71, Campania e Lazio 69 per entrambe sono le regioni con il maggior numero di adozioni. Il 59% degli adottati sono maschili, età media è di 6 anni.